Musica Ben trovati a questa nuova edizione di Globus Sport News da Edoardo Barbera, il TG sportivo a cura della nostra redazione. Partiamo subito con la prima notizia del giorno, ovvero la Supercoppa Europea. Altra vittoria europea per il Real Madrid di Zinedine Zidane, che si impone per 2-1 sul Manchester United. La gara è stata sbloccata al 24esimo minuto del primo tempo dalla rete di Casemiro, poi nella ripresa al raddoppio di Isco e al settimo Lukaku. Per lo United al 62esimo il gol dell'ex attaccante dell'Everton. Sesto trofeo in 20 mesi per Zinedine Zidane da quando allena il Real Madrid. Calcio mercato. La Juventus ha ufficializzato il passaggio di Lemina al Southampton. Il centrocampista ormai ex bianconero arriva al club inglese per la cifra di 17 milioni di euro più 3 di bonus. Preoccupazione invece in casa Milan perché Bilian non è stato convocato per il test amichevole di questa sera contro il Real Betis a causa di un presunto stiramento muscolare che potrebbe far restare ai box l'ex centrocampista della Lazio. Ricordiamo che il match si giocherà all'Angelo Massimino di Catania. Formula 1. Non è soddisfatto Kimi Raikkonen dell'inizio di questa stagione. Il pilota della Ferrari infatti è deluso dalle diverse situazioni che si sono poste tra lui e la possibilità di vincere almeno una gara. L'ultima vittoria per il pilota finlandese risale proprio alla stagione 2013 quando Heisman vinse il Gran Premio di Melbourne. Mondiali di atletica. Si conferma campione del mondo il sudafricano Wade Van Nierkerk sui 400 metri, mentre nei 200 metri femminili Gloria Hooper e Irene Siragusa non si classificano per il passaggio alla finale. Passiamo al rugby che è l'ultima notizia del giorno. Presentati i calendari di serie B per la stagione sportiva 2017-2018 che prenderà il via il prossimo 2 di ottobre. L'amatori Catania sarà impegnato alla prima giornata in trasferta contro la Capitolina. Seconda giornata invece sarà occupata dal derby contro il Messina, fissato per l'8 di ottobre. Con questo chiudiamo il nostro TG sportivo da Edoardo Barbera e tutto. Buona continuazione con i nostri programmi. Se vorrete continuare a restare aggiornati con le nostre notizie, seguiteci sul sito internet www.globusmagazine.it Buona continuazione con i nostri programmi. Buona continuazione con i nostri programmi.